Nella hall del Playa, l'ultimo albergo oggetto di un ingente investimento a Torrette, diventato con la sua ingente mole il simbolo di questa località turistica, le associazioni e alberghi consorziati, Confcommercio Marche Nord e Federalberghi, unitamente all'assessore al turismo Alberto Santorelli, hanno espresso un consuntivo della stagione turistica che ha caratterizzato il nostro territorio. Erano presenti Luciano Cecchini, presidente degli albergatori, Barbara Marcolini, presidente della Confcommercio, Amedeo Tarsi e Gabriele Borgoggelli, rappresentanza dei campeggiatori, e Mauro Mandolini, presidente concessionari di spiaggia. Grazie a quattro nuove adesioni da parte dell'Hotel Playa, Villa Rinalducci, Castello di Montegiove e la Locanda, ora la cooperativa può vantare 3.600 posti letto, cui si aggiungono 5.500 dei campeggi e oltre 5.000 di diverse tipologie di strutture ricettive. Un'offerta che pur non raggiungendo le dimensioni del turismo di massa presente in Romagna, costituisce comunque una risorsa significativa nell'ambito della nostra economia. Oggi siamo in una struttura che ha riqualificato, che sicuramente ha portato ricchezza e valore al territorio ed è su questa lunghezza d'onda che la nostra attività dovrà concentrarsi nei prossimi mesi, ovvero per pensare a un piano particologiato, strutture ricettive, che possa infrastrutturalmente dare profondità all'azione turistica di tutto il sistema. Abbiamo sicuramente meno strutture ricettive della città di Senigallia, questo è un segnale negativo che va colmato, ma abbiamo sicuramente però tante aree ancora con la possibilità di sviluppo, sia per quanto riguarda le strutture che le iniziative e quindi gli eventi da dislocarsi durante tutta la stagione, con anche un'attenzione a quello che è il programma degli eventi, che non dovrà sovrapporsi e dovrà sicuramente essere organizzato meglio. Sicuramente noi dobbiamo innanzitutto fermare la deriva per cui se un hotel sta chiuso per 5 anni poi può trasformarsi in appartamenti, questo ovviamente sarebbe la morte del turismo, quindi è una norma tecnica di attuazione anche nel piano regolatore che è da eliminare e il piano strutture ricettive ovviamente dovrà contemplare la possibilità di aumentare i servizi, di riqualificare e di aumentare i servizi all'interno della struttura ricettiva, anche di ampliare la capacità dei posti letto della stessa struttura. È da parecchie amministrazioni che chiediamo un palazzetto importante, minimo minimo di 3.000 posti, perché gli eventi importanti, come abbiamo constatato, lo sport durante l'inverno ci porta veramente ossigeno alle nostre strutture. Destagionalizzazione è il vostro imperativo? Sì, questo è naturalmente un investitore che viene nella nostra città, ha bisogno di portare avanti un discorso più ampio dei due mesi delle vacanze che fanno gli italiani o gli stranieri a Fano, minimo minimo, minimo bisognerebbe portare avanti 4-5 mesi abbondanti di turismo a livello sia sportivo che anche a livello di balneazione. Tra mucillaggini e caldo eccessivo, com'è andata la stagione? Non è andata come ce l'aspettavamo, perché il caldo eccessivo abbiamo ripiegato sul discorso della gente che non ce la faceva e doveva ritornare a casa. Abbiamo avuto parecchie disdette anche sul fatto della mucillaggine, perché il caldo è come le giornate piovose, la gente non riesce a stare sotto l'ombrellone, preferisce e dice sto a casa perché... oppure abbiamo ripiegato portandole nell'entroterra, ma era molto molto difficile trattare con queste persone che naturalmente era un caldo insopportabile. La mucillaggine ha portato avanti parecchie disdette, parecchie.